Le catacombe accolgono le prime testimonianze dell'arte cristiana, innanzitutto pitture murali, in cui lo stile essenziale della tarda romanità dà forma alle scene e ai segni del cristianesimo primitivo nei secoli delle persecuzioni. Anche le vestigia della Roma imperiale trasfigurano nella tradizione cristiana in emblemi dei primi martiri. Così il Colosseo diventa sede simbolica della Via Crucis e qui il Santo Padre ricorderà i nuovi martiri alle soglie del III millennio.